L'Italia ha attivato un programma di cattura e soccaggio della nitide carbonica che si inquadra nel contesto complessivo. Il problema è di affrontare lo sviluppo tenendo in considerazione esigenze di sicurezza di approvvigionamento energetico, di competitività del sistema industriale e di sostenibilità ambientale. Ovviamente è una sintesi impossibile, c'è chi punta molto sulla competitività industriale, vedi Cina ad esempio, gli cinesi dicono per quale motivo dobbiamo tassarci rispetto alle emissioni inquinanti quando voi occidentali finora avete fatto il bello e il cattivo tempo. Quindi è un tema assolutamente cruciale e l'Europa è all'avanguardia rispetto a questa questione dando una grande centralità al problema della sostenibilità ambientale, tant'è vero che in Europa è stato lanciato ed è in corso un grosso programma volto a limitare fortemente le emissioni di nitide carbonica, limitando anche laddove possibile l'utilizzo di combustibili come ad esempio il carbone. Si tratta di abbassare le emissioni inquinanti dal valore circa 55 gigatonnellate di CO2 che si raggiungerebbe al 2050 se non si facesse nulla ad un valore che è circa la metà delle emissioni che si avevano nel 2009. Per quale motivo ci si dà questo obiettivo? Per garantire con una certa probabilità che l'incremento di temperatura terrestre sia limitato nell'ambito di 2 gradi centigradi, altrimenti nel caso si arrivasse a 55 gigatonnellate di CO2 l'incremento di temperatura sarebbe di 6 gradi. Non dico nulla su queste cose, io credo fermamente che la strategia di limitare l'incremento di temperatura terrestre sia quella vincente. In Europa come dicevo è partito un grosso programma volto alla riduzione di nitide carbonica con obiettivi cadenzati nel tempo al 2020, al 2030 e al 2050. Ovviamente si tratta di puntare molto sull'efficienza energetica, si tratta di puntare molto sulle fonti rinnovabili ma un ruolo importante lo svolge anche il come si impiegano i combustibili fossili. Come si vede da questo grafico per raggiungere questo obiettivo importantissimo un ruolo cruciale lo giocano le CCS che possono contribuire mediamente del 15% alla riduzione di emissioni totale e complessiva di energia carbonica da oggi al 2050. L'Europa è in linea con questi obiettivi. Per quanto riguarda le CCS diciamo che si può sintetizzare la posizione europea in questa maniera. Occorre guardare con lungimiranza all'esigenza di rendere utilizzabile tecnologie CCS, Carbon Capture and Storage, ma anche CCU Carbon Capture and Utilization, quindi utilizzazione di nitide carbonica, perché questi rappresentano queste tecnologie una parte importante per garantire gli obiettivi climatici che ci siamo dati al 2050. Per fare questo, visti i costi esorbitanti, occorrono interventi pubblici europei, non entro nel merito, non si tratta di interventi come dire di assistenziali pubblici nei confronti dell'industria, ma si tratta di interventi per il sostegno dell'innovazione industriale. L'Italia, con un po' di fantasia e di ottimismo, si dice che si è dato una sua strategia energetica. Questo ambito è previsto un intervento importante nel settore delle CCS. Cosa sono le CCS? Si tratta di catturare l'anidide carbonica, di trasportarla e di stoccarla nei siti geologici. Per quanto riguarda il trasporto non ci sono grossi problemi, né per quanto riguarda le tecnologie né per quanto riguarda i costi. L'impegno economico prevalente è legato alla cattura ed è lì che si stanno, per quanto riguarda i costi, concentrando le attenzioni di ricerca, specialmente di sviluppo e di dimostrazione. È essenziale, per garantire l'abbassamento dei costi, dotarsi di sistemi dimostrativi, perché vale, a maggior ragione in questo caso, la regola del learning by doing. Si impara e si acquisisce esperienza lavorando e gestendo questi tipi di infrastrutture. Per quanto riguarda le tecnologie di cattura dell'anidide carbonica, molto rapidamente ci sono tre strade. La cattura post-combustione, una centrale convenzionale emette gas combusti, si cattura la CO2 da questi gas combusti. Cattura pre-combustione, si elimina il carbonio prima della combustione. Ad esempio, nel caso del carbone, si passa attraverso la gassificazione del carbone, la estrazione, la faccio breve, scusate, devo per forza essere così, si passa poi alla cattura dell'anidide carbonica dal singasco, si è prodotto, in modo da avere un combustibile composto prevalentemente da idrogeno. E poi c'è la tecnologia di combustione con ossigeno. Cioè, si tratta di bruciare i combustibili con ossigeno. Il risultato qual è? E' che i gas combusti sono gas composti sostanzialmente da anidide carbonica e acqua, e quindi i costi di cattura sono molto più bassi. Esiste fra queste tre tecnologie la soluzione identificata come la migliore? No. Anche perché le applicazioni sono varie. Si è detto, e mi limito a questo poi vado oltre, che è importante, oltre che la cattura e stoccaggio dell'anidide carbonica prodotta da impianti per produzione di energia elettrica, anche la stessa cosa relativa ad impianti industriali. Ad esempio, nel settore del cemento, petrochimica, eccetera. E in molti di questi, ad esempio, nel settore del cemento, non si può che tendenzialmente pensare alla cattura post-combustione. E così via. Quindi diciamo che nel mondo ci sono svariate attività di ricerca e di dimostrazione di queste tre tecnologie. Combustione, post-combustione, pre-combustione e oxi-combustione. Per quanto riguarda i costi, ovviamente non ho il tempo di entrare nel dettaglio. Dicevo che è essenziale dotarsi, realizzare impianti dimostrativi dotati di queste tecnologie. L'Europa ha provato a lanciare un grande programma, ma per questioni varie, essenzialmente legate all'importanza degli investimenti. Questo programma si è un po' rallentato. Gli Stati Uniti vanno alla grande, la Cina pure, l'Australia, il Canada. Un dato però. Se vogliamo quanto ci costa in più un impianto dotato di tecnologie CCS. Facciamo un esempio, do dei numeri, tanto per capirci. Se consideriamo un impianto di quelli convenzionali a 660 MW a carbone e vogliamo trattare soltanto un 40% circa del gas prodotto dalla combustione di questo impianto, noi abbiamo un sistema che corrisponde più o meno a una tecnologia CCS applicata ad un impianto che fornisce 250 MW elettrici. Allora, l'impianto da 660 MW convenzionale costa circa 900 milioni di euro, vuoto per pieno. L'impianto per dotare una parte di questo impianto, cioè circa la metà, di tecnologie di cattura, di trasporto e di stoccaggio del CCS. E per l'esercizio di questo impianto per dieci anni occorre spendere un miliardo di euro. Qui sono numeri che porterebbero a dire ma chi ce lo fa fare. Questi numeri però sono la situazione di oggi, con le tecnologie attuali è evidente che non si può pensare che nessuno al mondo possa realizzare impianti di questo genere con questi costi. Se noi pensiamo alla caduta dei costi dei sistemi fotovoltaici legati alla produzione di tanti impianti fotovoltaici e similarmente in tante altre situazioni, l'obiettivo è quello di abbassare drasticamente questi costi facendo che cosa? Facendo ancora ricerca ma in particolar modo facendo sperimentazione su impianti reali. Questo è il motivo per il quale molti investono. Perché deve investire l'Italia? Quando l'Italia non utilizza il carbone e io tanto per essere chiari sono totalmente d'accordo con l'impostazione di evitare che in Italia si utilizzi carbone. Quindi per quale motivo in Italia, paese nel quale il carbone è utilizzato in percentuali molto basse, circa il 12-14%, è un paese nel quale si tende a limitare l'utilizzo di carbone? Perché nel mondo esiste un mercato infinito. Da qui al 2050 il carbone sarà ancora il principale combustibile fossile. Chi lo utilizzerà? Cina, Stati Uniti, altri ancora. E quindi per l'Italia sviluppare queste tecnologie vuol dire tentare di mettere in condizione l'industria nazionale di competere sul mercato internazionale. Non è un caso che con questo obiettivo abbiamo avuto recentemente, anche con una partecipazione per la quale continuo a ringraziare Salvatore, incontri con il Department of Energy negli Stati Uniti ma specialmente con i cinesi. In Italia, quindi il programma nazionale, si basa sulla Sardegna, sulla società Sotacarbo che è una società detenuta al 50% da Enea e 50% dal governo regionale Sardo. In estrema sintesi il programma consiste in questo, con fondi pubblici 30 milioni di euro, finanziare la realizzazione di un impianto pilota dimostrativo basato su una tecnologia ossicombustione pressurizzata, di cui dirò qualcosa dopo, che è una tecnologia, diciamo, italiana. Parallelamente è stato lanciato un programma di ricerca e sviluppo che può contare su 30 milioni in 10 anni da parte del Ministero del Sviluppo Economico e 8 milioni e mezzo, circa 9, in tre anni da parte della regione Sardegna, ma il prossimo piano triennale è in fase di preparazione, quindi ci saranno altri 9 milioni. Per fare che cosa? Per studiare ancora tecnologie pre-combustion, post-combustion e oxy-combustion e per studiare in maniera molto, molto consistente, diciamo, il sito per lo stoccaggio dell'antide carbonica. Punta anche questo programma alla realizzazione di un centro di eccellenza del Sulcis, Technology Center of Sulcis, TCS, intorno alle infrastrutture di Sotacarbo. Le attività sono varie. Mi concentro adesso, un attimo, dicendo due parole sulle attività di ossicombustione e impressione e mezza parola sulle attività di stoccaggio. Facendo vedere prima, molto velocemente, infrastrutture presenti presso il centro di Sotacarbo sono un grande impianto per la gassificazione del carbone e di biomasse ed un impianto più piccolo per studiare in scala pilota di taglia non industriale tecnologie di cattura sia pre-combustion che post-combustion. Un impianto che non è di Sotacarbo ma è della società ITEA, del gruppo Sofinter, ex Ansaldo, comunque collegata con l'Ansaldo, è un impianto che sta studiando la combustione ad ossigeno. Perché lo cito? Lo cito perché è un impianto realizzato parecchi anni fa. In buona sostanza si è provata questa tecnologia ossicombustione in pressione tipo flameless che sta dando ottimi risultati e su cui vogliamo investire per il dimostrativo. Quali sono le caratteristiche di fondo? Perché flameless? Sulla sinistra è indicata un classico immagine di una fiamma di un bucciatore convenzionale, sulla destra la combustione flameless, senza fiamma. Non sto a entrare nei dettagli. È un tipo di combustione diversa, caratterizzata dal fatto che la temperatura è molto uniforme all'interno di tutta la camera di combustione e su livelli di intorno ai 1.400 gradi. Questo consente di ottenere prestazioni ambientali di AI eccezionali, nel senso che il particolato è ridotto a valori estremamente bassi, perché in sintesi le ceneri vengono, come si vede qui, fusi all'interno della camera di combustione e poi vengono solidificate e vetrificate dopo la fuoriuscita. Per quanto riguarda la rangeabilità e la flessibilità, c'è una grandissima flessibilità, argomento essenziale per i futuri impianti alimentati a combustibili fossili, caratteristica indispensabile per potersi inserire bene in un sistema energetico che sempre più fa riferimento a sistemi di produzione tipo solare, eolico eccetera, che forniscono energia elettrica in regime molto variabile. Sono riportati i valori di emissioni che sono stati misurati in tre anni di campagne sperimentali condotte da ITEA e dai tecnici di Enea. Quindi c'è un impianto che utilizza carbone bruciato con ossigeno, che ha grandissime, elevatissime prestazioni ambientali, emissioni di inquinanti vari e di particolato molto ma molto basse e che ha la caratteristica di avere un gas combusto caratterizzato essenzialmente all'endita carbonica. Noi lo potremmo già utilizzare così com'è senza fare l'ulteriore cattura e stoccaggio dell'endita carbonica perché se i costi lo consentono. Quindi quando si dice ready for CCS si pare di un impianto che già così potrebbe andare bene. Dopodiché se vogliamo procedere alla fase di cattura e stoccaggio possiamo aggiungere pochissimi componenti all'impianto oggi esistente per sostanzialmente purificare ulteriormente l'endita carbonica, comprimerla per poi pomparla sottoterra. Questa tabella diciamo mette a confronto i costi diciamo così dell'energia elettrica, levelized cost of electricity, in varie situazioni. Un impianto a carbone convenzionale si posiziona intorno a 76 euro a megawattora. Come si vede il costo dell'energia elettrica con cattura è molto più elevato. Nel caso dell'impianto di cui parlavo prima, a osso di combustione pressurizzata, senza cattura e senza stoccaggio dell'endita carbonica, dai conti fatti si arriverebbe a 75. Quindi pur considerando che queste valutazioni economiche vanno prese con le pinze, quindi occorre fare dimostrativi perché il tasso di interesse cambia, il costo del combustibile cambia, il costo dell'effetto eccetera eccetera, però diciamo che noi avremo un impianto che produrrebbe energia elettrica a costi comparabili con gli impianti a carbone convenzionali, con un vantaggio, bassissime emissioni di inquinanti e particolato. Se poi si volesse passare alla fase di cattura e stoccaggio si andrebbe a 91 euro a megawattora, poco in più rispetto ai 76. Complessivamente abbiamo lanciato un programma, a mio parere, coerente. Abbiamo chiesto autorizzazioni per procedere, per fare attività di ricerca. Abbiamo l'intenzione con l'Università di Roma, con Salvatore e con altri, di renderlo un laboratorio a disposizione del contesto europeo ed internazionale.